Che fanno? Si stanno mangiando un metro per ticcio. Ah. Le stipendio giornale intendo 30.000. E come può vivere con 30.000 lire? Male, tu mi dico tu. Elena vuoi l'automobili? Vuoi gli appartamenti? Vuoi le bellice? Che appartamenti è bellice? Sono tre anni che vado in giro con le stesse scarpe di suo grigio. Ma insomma, Magnozzi, lei non sa nemmeno usare il sex. Ma non funziona, comunicatore. Non vede che funziona, Magnozzi? Ma pensa sempre ad altre cose. Che mai, mai, della felice. Come si fa a cambiare le tessere? Tua madre ti parla mai di me? Che sei sfortunato. Io ti lascio solo! Solo con le tue idee! Con i tuoi romanzi! Trovati un'altra che ti capisca! No, Elena, ritorna con me. Staremo bene insieme. Non sono come prima. Sei peggio di prima. Bevi, straparli. Sei pallido come un morto e le scarpe rotte. Dove finirai di questo passo? Ricominceremo tutto da casa. Ti giuro che non ti farò mai più soffrire. L'hai detto tante volte che non ti credo più. Io non lavo di scandali, non mi piace vedere il mio nome sui giornali. Io le offro 5 milioni. Ciao, Elena! Ciao, Elena! Chi è quel bell'uomo, Elena? È il mio marito. Non sia nemmeno? Vedrai, tornerà. Lo mando scusa. Ciao, Elena!